a seconda dell'età cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 dizionario del cerchio firenze 77 a cura di vb a seconda dell'età in cui avviene il trapasso il significato della morte dei bambini può essere solo per i genitori per i parenti o per coloro che hanno vissuto quell'esperienza dolorosa non può essere affatto per l'individuo trapassato in età così acerba questo vale fino ai 3 4 anni di età non c'è neppure si può dire un contatto vero e proprio con una entità poi man mano che si avanza con l'età l'esperienza vale anche per coloro che trapassano quindi è karma non solo per i genitori per i parenti e per tutti coloro che sono colpiti da questa scomparsa ma anche e proprio per colui che scompare e la cosa accade in conseguenza di un'azione mossa in una precedente incarnazione 88 g